allora ragazzi per il nostro progetto userò questo vecchio sostegno è stato regalato da un amico che lo buttava allora è regolabile e ha le rotelle una squadra d'alluminio nel traffilato quadrato e un altro traffilato quadrato un po più piccolo che andrà a scorrere all'interno di uno di questi un riduttore per microonde una squadra anche questa recuperata una squadra di plastica e un vecchio porta telecamera e 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 le riprese circolari vi sia piaciuto mi raccomando lasciatemi un commento per farmi sapere la vostra opinione condividete mi raccomando iscrivetevi al canale per restare aggiornati sui prossimi progetti seguitemi sui social che trovate in descrizione e grazie a tutti per la visione ciao